Buonasera a tutti da Pierluigi e buon lunedì. Va colmandosi la depressione che ha caratterizzato il tempo nelle ultime ore, negli ultimi giorni, sull'Italia ma direi su tutto il Mediterraneo centro-occidentale. La situazione però rimane in bilico perché in Europa, dal punto di vista barico, si è creata un'alta pressione presente sull'Europa settentrionale che sta convogliando aria fredda verso la Francia. Allo stesso tempo, sull'Europa occidentale, la depressione atlantica continua a sfornare sistemi nuvolosi associati a un vortice depressionario che si legano e si dirigono verso la Spagna e il Portogallo. L'Italia dunque nei prossimi giorni resterà terra di nessuno, anche se il tempo, dalle ultime mappe e degli ultimi modelli a nostra disposizione, sembrerebbe migliorare e dunque andare verso una situazione di tempo generalmente stabile almeno fino ai giorni di Pasqua. Comunque ne riparleremo nei prossimi appuntamenti. Vediamo adesso il tempo previsto per domani, 16 di aprile. Abbiamo indicato nuvolosità variabile su tutte le zone, più intensa ovviamente sulle aree appenniniche, dove non si escludono ancora rovesci e isolati temporali. La ventilazione risulterà debole o moderata da nord-ovest per mari generalmente poco mossi. Le temperature, visto che il sole inizierà a fare capolino tra le nuvole, saranno in aumento soprattutto sui settori costieri e sulle zone pianeggianti. Comunque durante la notte si osserveranno temperature intorno ai 2 gradi nelle aree interne aquilane e 9 gradi invece sulle aree costiere, mentre per quel che riguarda le massime avremo delle temperature che viaggeranno tra i 10 e i 16 gradi. Per adesso ho concluso. Grazie della cortesa attenzione, una buona serata a tutti da Pierluigi.